Si è verificata un'esplosione che ha devastato una villetta in località Martelletto, nel comune di Settingiano a Catanzaro. La deflagrazione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha colpito parte dell'abitazione su due livelli, provocando il crollo di alcune pareti esterne e causando significativi danni alla struttura. Una persona è rimasta ostionata e, dopo essere stata soccorsa, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale per le cure necessarie. I carabinieri erano presenti sul posto per svolgere le indagini sulle cause dell'accaduto. Immediatamente dopo l'esplosione, una squadra di 15 unità dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, dotata di quattro automezzi e autobotti per il rifornimento idrico, è intervenuta prontamente sul luogo. L'obiettivo principale dell'intervento è stato circoscrivere l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme alle abitazioni vicine e mettendo in sicurezza l'intera area coinvolta.